Buongiorno un unboxing veloce un video veloce di questo splendore ecco qua la cosa più bella del mondo chi avessi di andare a prendere una cosetta per aprirlo aspettate abbiate pazienza ok ho preso un secondino il coltello ma lo che andiamo a tagliare signori le carte qua di scotch scusate se parlo piano ma perché parlo piano ma vabbè parlo piano perché parlo piano mi secca due dalle perché sennò poi mi fa male la gola semplicemente per questo ok è già un percetto l'abbiamo unboxato aspettate adesso lo unboxiamo anche l'altro mentre ora andiamo a vedere un pochettino poi abbiamo aperto vediamo un po se qua ce ne scotch e ti pareva che non c'era pure scotch sotto aspettate un po che adesso lo levo pochettino secondo ok perfetto l'abbimetto dai ok ecco qua adesso questa parte dovrebbe essere libera per aprirsi allora devo capire invece però come si apre questo eccola così adesso la apriamo così in questo modo e tiriamo fuori questo ma questa è una cosa semplice quindi adesso metto la telecamera così scusate un po se poi non ci vedrete nulla però adesso devo ammuxarla a tirarla a tirarla ole eccoci qua fatto ok vabbè ora dobbiamo con il nostro amico coltello prevedo che non si taglierà mai ecco ci sono pure le istruzioni aspettare un po che adesso devo andare a fare devo andare a recuperare eccolo è qua sotto devo andare a recuperare tutti i servizi buoni adesso devo prendere questo anzi no veramente per questo dietro ci sono le cose per aprirli quindi potrei pure pure aprire in questo modo ma siccome così non si apre devo trovare un modo per aprirli aspettate ragazzi voi non vedrete come al solito niente anzi non vi faccio vedere così vai voi state vedendo sì ok ora ho tagliato questi voi non avete visto di sicuro nulla ed ecco qua questa è la parte di telecomando questo telecomanda va capito questo telecomanda quindi avanti vabbè devo studiarlo capito così 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 allora così si fa avanti e indietro si mette in mano così aspetta un po che l'accelatore si mette in mano così si gira capito quindi si gira la rotella e si gira questo è un metodo di giramento molto bello che adesso dobbiamo tagliare sotto e poi ve la faccio vedere adesso la capo volgiare ma che arena ok dai fuori uno poi adesso fuori due smettiamo la telecamera all'aria che la devo prendere adesso poi fuori due e infine fuori tre e lei è uscita è un mostro ecco 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 ec Eh, però è bello, è gioia, lo so, eh, ok, ok. C'è le lucine incorporate dentro, poi qua su c'è delle piccole lucine, che dovrebbero in teoria accenderla. Poi qua dentro c'è gli spazi belli, lo stereo, il coso, il cambio, i cerchi, c'è, che mi piace. Adesso vado a prendere un qualcosa per aprirla, un qualcosa che serve per togliere le viti. Allora ragazzi ci siamo, questa l'ho aperta e la vita l'ho messa là. Mentre in questo il coperchio si leva e la vita rimane inserita, capito? Mentre questa vita si trova a poco, adesso la metto lì, adesso metto le batterie e la testiamo. E vabbè signori, che vi posso dire? Niente. Quindi questa poi la testiamo in un altro video, comunque vi faccio vedere un po'. Se ne va. Vabbè questa poi la proviamo in un altro video, facciamo un video apposta per lei, che è un paio di tempo, con la ruota che c'è sul telecomando, le gambe direzioni. Comunque io vi saluto, ciao!